Loro sono tutti 2001 e sono naturalmente più bimbi ma giocano molto bene, giocano come giocano i lituani, sono fantastici perché tu difendi sugli esterni e sono bravi a mettere la palla sotto, se tu ti chiudi loro fanno canestro. E' sempre molto divertente giocare con i lituani o con i lettoni perché te la spiegano, le prime non è mai facile, ci è andata bene, ci siamo sciolti, anche un po' troppo facile e poi ci siamo anche un attimino seduti e abbiamo segnato subito da fuori e ci siamo un po' specchiati in questa roba qua, la cosa non mi è piaciuta tanto ma va bene. Grazie